La scadenza è fissata il 10 di settembre, troppo vicina per completare tutti i documenti necessari a corredare la domanda per l'esenzione riservata agli studenti che intendono utilizzare i mezzi di trasporto della TUA. Per questo la CGL ha chiesto a Regione Abruzzo una proroga dei tempi di consegna delle domande, almeno a fine mese. Per completare la ricognizione dello stato patrimoniale della famiglia dello studente, intenzionato a richiedere l'esenzione, spiega e il segretario generale della CGL di Pescara, Emilia Di Nicola, servono almeno 10 giorni, ragion per cui è di fatto impossibile completare la domanda in tre termini. Quindi di fatto se una famiglia produce la domanda a oggi è già fuori i termini previsti dalla normativa, per cui noi chiediamo fortemente che ci sia una proroga, comunque invitiamo le famiglie e gli studenti a fare la domanda, a iniziare a produrre i documenti e cominciare a costruire questo pacchetto per inviare la domanda. L'esenzione parte della riforma complessiva del TPL regionale, il testo che porta alla firma del consigliere delegato Camillo Adalessandro e che è stato approvato prima della pausa di ferragosto dal Consiglio regionale, prevede però anche l'aumento del 15% del costo dei biglietti, aumenti che penalizzano soprattutto l'utenza abbonata. Qual è la situazione attualmente in provincia di Pescara e a Pescara per quanto riguarda il TPL? Il trasporto pubblico locale a Pescara lo si potrà gestire bene nel momento in cui entreranno in funzione quei mezzi che sono stati ampiamente pubblicizzati dalla direzione aziendale. Entrando in essere questi mezzi, problemi non se ne dovrebbero registrare. Per quanto riguarda l'assetto complessivo, le aree interne dovranno essere maggiormente attenzionate per evitare che soprattutto con la riapertura delle scuole diversi lavoratori e soprattutto studenti possano rimanere a piedi. E poi ci sono i tagli ai chilometri percorsi e la revisione generale delle corse. Un provvedimento deciso dalla Regione per consentire a Tua di rientrare nei parametri di legge e non essere più penalizzata dal Governo che nell'anno in corsa tagliato i trasferimenti per 8 milioni di euro. Come CGL, unitamente agli altri sindacati, chiediamo che venga rivista questa norma che oltretutto ci accomuna al cosiddetto novero delle Regioni Canaglia che non rispettano i parametri richiesti dalla legge. Quindi è una legge nazionale che anch'essa va rivista perché ha un'ottica federalista spinta per cui se non si rispettano certi parametri allora non si accede a dei fondi.